Buongiorno e benvenuto nella prima lezione del corso di Joomla che ti permetterà di realizzare siti web professionali in pochi giorni e senza conoscere necessariamente i linguaggi di programmazione. Innanzitutto diciamo cos'è Joomla. Joomla è un software open source, ovvero non a pagamento, di CMS. Cosa significa CMS? È l'acronimo di Content Management System, che tradotto significa Sistema di Gestione di Contenuti. Spieghiamo meglio. Joomla è essenzialmente una piattaforma molto potente e in continuo sviluppo che permette la creazione e la gestione di siti web dinamici, da piccoli siti o blog fino a avere i propri portali da migliaia e migliaia di visitatori al giorno senza conoscere appunto linguaggi di programmazione come l'HTML, il PHP, il SQL e altri ancora. Joomla sta conoscendo un grosso sviluppo in questi anni anche grazie a una comunità di volontari che ha continuato a lavorare per migliorare il software. Oggi siamo giunti alla versione Joomla 2.5 con i periodici aggiornamenti ed è quest'ultima versione che utilizzeremo nel corso. Vedremo nel proseguo delle lezioni quali sono i motivi che hanno permesso a Joomla di diventare probabilmente il più importante CMS open source a livello mondiale. Per iniziare a sviluppare il nostro sito web abbiamo bisogno innanzitutto di creare l'ambiente di lavoro. Cosa ci occorre? Ci occorre ovviamente il CMS Joomla e poi uno strumento che ci permetta di far funzionare il nostro sito web localmente, cioè direttamente sul nostro computer e che ci fornisca un database. Ed è proprio su questo strumento che ci concentreremo in questa lezione. Lo strumento si chiama EasyPHP. Cos'è EasyPHP? Più che un software possiamo definirlo come un vero e proprio ambiente di sviluppo che contiene al suo interno un server web che si chiama Pash, un database MySQL, un interprete di PHP che è il linguaggio di programmazione nel quale è scritto Joomla e un'interfaccia grafica di amministrazione del database che è chiamata PHP MyAdmin. Una volta installato EasyPHP creerà automaticamente un dominio locale. Semplificando al massimo è come se simulassimo di avere il nostro sito su internet, quindi su un vero e proprio server remoto, stando invece ancora solo sul nostro computer. Questo ci dà il vantaggio di creare e testare il nostro sito anche senza dover essere online. Procediamo adesso all'installazione di EasyPHP. Come primo passo andiamo sul sito ufficiale di EasyPHP www.easyphp.org e scarichiamo l'ultima versione stabile di EasyPHP, quella consigliata dal sito stesso, andando nell'area download o sul modulo di download presente sull'home page. Scarichiamo il file. Una volta scaricato, dobbiamo procedere all'installazione. Apriamo l'applicazione e clicchiamo su Esegui. Scegliamo la lingua. Si tratta di un'installazione classica, basterà cliccare sempre avanti e accettare le condizioni fino alla conclusione della procedura. Il consiglio è quello di installarlo direttamente sul disco locale C o nella cartella Programmi. Qui, per motivi di presentazione, si trova su Utenti, Corso di Joomla. Andiamo adesso ad aprire la cartella di EasyPHP che troveremo nel percorso che abbiamo assegnato durante la procedura di installazione. Apriamo e qui troveremo le cartelle e i file che compongono EasyPHP. All'interno della cartella www inseriremo il nostro sito, come vedremo nella lezione successiva. Adesso ovviamente la cartella è vuota. Adesso attiviamo l'applicazione. Il consiglio che diamo è di avviare EasyPHP come amministratore, per evitare possibili errori all'apertura. Può succedere ad esempio a chi ha Windows nella versione a 64 bit. Prendo EasyPHP, comparirà sulla barra dell'applicazione del nostro computer una E. È l'icona di EasyPHP. Clicchiamo sull'icona con il tasto sinistro e ci comparirà questo piccolo pannello con due semafori, accanto alle voci Apache e MySQL. Se i semafori sono verdi, significa che il server web Apache e il database MySQL sono correttamente partiti. Clicchiamo adesso con il tasto destro del mouse sull'icona di EasyPHP. Vediamo che si apre una finestra con diverse voci. Queste ci consentono una serie di operazioni. Elenchiamole brevemente. Help, questa voce permette di accedere direttamente al sito di EasyPHP. Log files, qui possiamo andare a visualizzare nel caso in cui Apache o MySQL creassero degli errori. Configuration, permette di andare a modificare la configurazione generale. Explore, questa voce permette di aprire la cartella in cui inseriremo il nostro sito Joomla. Quindi ci apre direttamente la cartella www, che adesso ovviamente è ancora vuota. Administration, apre la pagina di amministrazione e questa è la voce che ci interessa fra poco. LocalWeb apre il nostro sito locale. Restart e Stop riavviano o fermano Apache e MySQL. Exit permette di chiudere l'applicazione di EasyPHP. Un aspetto relativo al funzionamento di EasyPHP è che il server Apache va ad occupare di default la porta 80 del computer, che è quella utilizzata anche da altri programmi come ad esempio Skype. Se la porta 80 dovesse essere occupata da altri programmi, il server Apache non potrà avviarsi. Occorrerà in questo caso terminare il programma che blocca la porta o fare in modo che quel programma vada ad occupare di default un'altra porta libera del computer. Ma veniamo adesso alla creazione di un database e di un utente con i privilegi amministrativi. Per farlo dobbiamo aprire PHP MyAdmin, l'interfaccia grafica di amministrazione del database. Apriamo il pannello amministrativo di EasyPHP e clicchiamo su Administration. Si apre così l'interfaccia amministrativa dell'applicazione. Clicchiamo su Open, accanto alla voce PHP MyAdmin. Adesso siamo su PHP MyAdmin. Come primo passaggio andiamo a creare un nuovo utente che non sarà altro che la persona che utilizzerà il database. Andiamo su Privilegi e clicchiamo su Aggiungi un nuovo utente. A questo punto dobbiamo inserire i parametri richiesti e definire i privilegi abbinati. Nome utente, inseriamo il nostro nome utente. Qui mettiamo Admin. Host, scegliamo Locale e comparirà la scritta Local Host. E poi inseriamo la password che sarà collegata all'utente. 1, 2, 3, 4, 5. E ripetiamo la password per questione di sicurezza. 1, 2, 3, 4, 5. Ricorda tutti questi dati scrivendoli su un foglio a parte perché saranno dati che dovrai poi inserire al momento dell'installazione di Joomla. Scendiamo giù e andiamo nel modulo Privilegi globali. Clicchiamo su Seleziona tutti. L'utente avrà così piena libertà di movimento per quanto riguarda la gestione del database. Clicchiamo su Crea utente e avremo così la conferma che è stato creato un nuovo utente. A questo punto dobbiamo creare il nostro database. In alto troviamo la voce Database. Selezioniamo la voce e ci comparirà questo pannello per la creazione di un nuovo database. Inseriamo un nome da dare al database, qui inseriamo Database underscore demo e clicchiamo su Crea. Conclusa anche questa operazione, siamo pronti all'installazione di Joomla che vedremo nella lezione successiva.